ciao a tutti ragazzi benvenuti qua su vansin tv su un nuovo gioco mina e mici allora gioco gioco della sempre l'hanno già visti tra l'altro anche questi qua light up che sia come developer che come publisher mina e mici è un gioco 2d top down su una ragazza e la sua amica che interprendono avventure risolvono enigmi sconfiggono i nemici nel corso dei stagioni mina è una ragazza che ama la sua migliore amica mici ama anche l'avventura non le piace la gelatina ok insieme amici viaggiano attraverso luoghi meravigliosi e colorati in tutte le stagioni sconfuggendo nemici appiccicosi e risolvendo enigmi per aiutare nel loro viaggio troveranno alcuni oggetti molto vari e utili alcuni dei quali sono magici altri danno a mina e mici più salute e forza e anche altri concedere la loro abietta speciali per aiutarli per aiutarle a raggiungere nuovi posti ed avere successo nel loro compito potrei giocare controllando entrambi personaggi mini nemici contemporaneamente usando entrambi ma i diciamo i personaggi o modalità cooperativa locale giocando con un amico ok ok il gioco tratta sua stima a 4,99 euro e ragazze bando le cianci e si inizia naturalmente inglese scusate ragazze ma ho abbattuto un po' l'auto e 20 in altissimo ok iniziamo ragazze dai vai eh sì normale allora io la mia favorita è l'inverno ok ok come do i start it was been a while now but i still remember when i first metto you my dear friends i still remember our adventure and all the time we spent together i remember Grazie per quanto mi piace anche il winter e per quanto non mi piace il gelatino, ma quel giorno abbiamo avuto un'avventura meravigliosa. Anzi non è per niente facile giocare con entrambi, perchè uno utilizza un joystick e l'altro utilizza l'altro. Mamma mia ragazzi! Complicato! Cioè nel senso non è complicato giocarlo ma è complicato essere coordinato. Cioè qua non è che bisogna essere combinato, è sicuro che adesso cerchiamo di fare le cose. E l'altro dovevo andare? Giù di qua non si può andare, ok? Quindi quello che dobbiamo fare. Ah ok. Perfetto. Tu hai trovato i padded glows. All that will again pad space. Ah, va bene. Non possiamo andarci. All the... ah, ok. Ah ok, bisogna semplicemente spostarli. Vabbè, questi qua sono easy. Vai. Perché non si muove? Oddio. Ho fatto qualche cazzo da io? Ok, più uno. Scusate. Abbiamo cliccato il tasto per far sì che c'erano due persone che giocavano. qua. Allora, così di qua, più di qua. Aspetta. E dai. Perchè non lo sposta? Perchè non lo sposta? E' questa bella? Ma solo lei può farlo? Di muscoli? Di posare solo da ragazzina? Ok. Oddio. Ok. Some gems. Ok. Ok, andiamo qua. Alla sopra ci sono un casino di... Sempre trovando un casino di chiavi. Bisogna capire perchè quelle non le hanno usate. Ok. Perfetto. E' complicato gestire due controllo. Dove nemmeno immaginate quanto. Stavo pensando dove... Possiamo usare qui. Forse dovete tornare a durare prima? Di questi. Sì, diciamo che a questo gioco qua è meglio giocare in coppa. Lo dico già subito. Bello. Ma è meglio giocare in coppa perchè è abbastanza complicata la cosa. Dove possiamo andare? Non ho capisco dove dobbiamo andare, sapete? Dove bisogna andare? Scusate. Allora. No, ti prego. Mi direi che lo fai molto tempo. Ok. Ma arriva anche tu. E dove c'è che bisogna andare adesso? Andiamo qua. Ah, si è incastrato, si è. Ok. Look more jumps. Ok. Se a chi viene sbloccato mi fanno morire ogni tanto da ridere. Sono molto carino. Ciò che sembra non è meglio adesso. Se lo cerchiamo a fare così, non ce l'ho male. Cioè, dove dovete fare? Cioè, dove bisogna andare secondo me? Non ci sono cancelli o altro qua? O l'ho visto io ora? Sono sicuro di non aver visto nessun cancelli o altro. Gli asti chiavi. Non è che magari non dobbiamo tornare indietro proprio i rivali, cioè. Mi giuro che se lo io tirlo non riesco a vedere dove devo andare. Ah ok. Ah vedi ho capito. Ecco cosa devo fare. Ma mi sa che c'è nello sfalto. Ok vai. Ok. E' una seconda. Si viene a sapere cosa lo so. Ok. Ah non deve stare qua intanto. Ah ho capito. Vediamo qui. Ok. Ok. Forse adesso. Aspetta. Se vengono da parte 2. Per. 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 Ma mi faccio male se c'è laimatola. Quindi con la razza ma non è. Però c'è la malattia. Ok. Perfetto. E ho scoperto dopo che potevo cliccare sopra alle recinzioni. Oh, bene, ottimo. Adesso possiamo accederli. Ottimo, guarda qua. Ok, vediamo giù di qua, l'interno è tutto prima. Gli slime ho paura tantissimo che ci facciano armare, quindi sarà meglio. No, no, non è che così arci. Ok. Abbiamo anche un cuore, quindi probabilmente è qualcosa di interessante. Laggiù. No, qua è stato. Sì, è stato di basso. Oddio. Quale è l'ultimo di impact space skateboard? Cioè, non capisco come poter usare... Non è che per gli andarno, però. Niente, pure io sapevo che erano per gli andarno. Cioè, pure io l'avrò per il tesoro. Abbiamo troppo alto vuol tesoro. Allora, va bene, non ce la ce la ce la... Ok, via, via, via di qua, via di qua. Non ho spiegato il passo sbagliato. Ok. Quello lì però non è scopato, vediamo qua sotto. Che cazzo non lo facciamo a fare. Non lo dispare. Allora. Padded Gloof permite pushing boxes. Hold A or let it to game pad. Ah, ok. Quindi contemporaneamente devo farlo. Guarda, non ho preso. Ah, era qui. C'è che non è capire, ragazzi. Scusate, arrivo, eh. Beh, è complicatissima sta cosa. Vabbè, andiamo su. Adesso, intanto. E poi questo qui, questo paletto. Dai. Ok. Intanto possiamo meno far questo. Ne fa un tempo che non basta. C'è un po' pazzo di nieve. È carino. Sì, sì, qua possiamo andare giù. Sì, diciamo che è più facile usare solamente un personaggio e poi dopo l'altro ti seguo, eh. È molto più semplice anche per fare le cose, perché altrimenti ne fatti fai solamente con uno e poi diventa un po' complicato. che è più facile. Allora. 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 E' vero? Non l'ha capito, non l'ha capito come cazzo è possibile, ma l'ha capito. Ok. E qua andiamo ai topmight. E' stato letto che mi fanno. Oh, finalmente! E' su? Ecco, qual'era l'arma che ci serveva. E' qua giù, non riuscivo a trovarla, ragazzi, mi sembra stanno come riuscivano a combattere con questi amici qua, però ho detto, boh, magari il gioco è predisposto che bisogna trovare una chiave. Ah no, c'eravamo già una chiave, perfetto, vieni. E ora torniamo giù di sotto e andiamo a farci l'altro pezzo sotto. Vai. Vai, vai. Ok, aspettate che... Ah, però sai che casino. Ok. Se una forse è quasi. Forse è nostra, poi andiamo a vedere sicuramente in secco. Bella. Cos'è che andiamo a sbloccato? E' sbloccato anche qualcosa che non c'è qua. No. Aspetta che non volevo andare qua. Allora, questo è che cos'è qua. Allora, fermo, gioco, fermo. Allora, questo è un'altra. Dobbiamo sbloccato, praticamente. Vado a farlo, farlo, farlo. Eccola di la vita. Vado a prendere. Oh, valla. Valla, valla. Che casino. Comunque, giocare in due. Però valla, valla. Mi sta piacendo molto il gioco. E forse è proprio perché è intricato, mi piace. Ah, posso anche... Posso anche calzarla? What? Di qua non possiamo proprio andarci, però. No. No. Ok, adesso. Ok. Allora, adesso possiamo rascendere la mente. Il gioco è praticamente fatto di slime. E l'abbatta di slime. E l'abbè. E l'abbè. E l'abbè. E l'abbè. Allora, facciamo questo. Vai. Vai così. Eh sì, però spero. Cosa vuol dire? Allora... 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 E se ne aveva richiuse una menta. No, non ci credo ragazzi mi sono chiuso. Posso anche tirarlo? Perché non può tirarlo dai? Ah ok, si posso tirarlo. Ma che cos'era quella cosa lì che ha fatto? Farmi tutti? Ah ok, uno copisce così l'altro copisce inata ma ne ho piegata. Tutto adesso. Perfetto. Guarda quante gemmine che ci hanno mandato. Michi, il massimo stamina è il incremento di uno. Oh, quindi aumentiamo la vita. Ottimo. Ottimo. Adesso vediamo un po' l'aspetta. Non avevo altre chiavi. Andiamo di qua. Mi sta intrippando sto gioco, sono sincero ragazzi. È abbastanza intrippato. Perfetto. 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 Ok. Perfetto. 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 In questo caso è un' brackets entender è stata semplice. Ok, adesso devo direttamente andare, altrimenti qua ci mettiamo una vita, però non la devo andare. Ok. Boss fight? Oh, petta 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 petta, che bocca! No petta 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 cazzola. Un casino. Vai! Grande! Il tuo primo boss! Gem of power! Ottimo! Sì, ho dovuto per forza farlo singolarmente ragazzi, è troppo complicato farlo con il gioco. Cioè, veramente, comunque è bellissimo. Sicurissimo, secondo me, da giocare in coppia questo gioco qua. Vabbè, non so che cosa è cambiato. Ma va bene. Vabbè! Ragazzuoli, spero che il gioco vi sia piaciuto. Vabbè, sinceramente tanto. Costa 4,99€, quindi non costa neanche più tanto. Ci potrebbe stare, ragazzi. Grazie assolutamente di giocarlo, di prenderlo e giocarlo su Steam. Detto questo, ragazzi, ci vediamo alla prossima. Sempre qua su LensinTV, mi raccomando, mettete mi piace, iscrivetevi. E alla prossima, ragazzi. Ciao belli!